Ciao a tutti, eccoci qua! Questo è un video che posso tranquillamente inserire nella mia playlist 4 amiche al bar. Oggi esterno, parlo un po' a ruota libera anche perché mi sono capitate nel giro di poche ore delle cose tipo, non so, ho sentito una notizia, ho incontrato una persona, ho saputo di un'altra cosa, insomma sapete quando le cose poi si collegano tutte con uno stesso filo. E ho pensato, adesso io vi racconto quello che ho pensato. Allora si parte con la notizia dell'Istat che ha pubblicato i dati della disoccupazione relativi al 2020. Si sapeva già, ma adesso c'è stata la certificazione che su 100 posti di lavoro persi nel 2020, 70 sono stati persi dalle donne. Addirittura nel mese di dicembre i posti persi dalle donne hanno raggiunto il 98% solo nel mese di dicembre, però diciamo in tutto il 2020 il 70%. Quindi significa che in questo momento su 100 persone che hanno perso il lavoro e lo stanno cercando, 70 sono donne. E quindi si riapre il discorso, io lo sento dire da tante, mi è capitato proprio in questi giorni di sentire questi discorsi. C'è la donna di una certa età, ma ragazze stiamo parlando di 40-42, che si sente dire no perché è troppo vecchia. Ora me lo sono sentito dire anch'io, no perché è troppo vecchia, me ne avevo 54, non mi sentivo vecchia, però obiettivamente ha 54 anni, ma una che ne ha 40-42, che si sente dire no troppo vecchia la vogliamo più giovane, sono colpi. Anche perché 9 su 10 una donna di quell'età anche dei bambini. i giovani si sentono dire, è troppo giovane, ha esperienza, eh no guardi sono apprendista, però devo avere esperienza, mi sembra giusto. Questo però se lo sentono dire anche gli uomini. C'è una cosa, anzi due cose che noi donne e solo noi donne ci sentiamo dire e queste due cose sono la prima, se sei abbastanza giovane, lei ha famiglia, oppure lei è fidanzata, pensa di farsi una famiglia, pensa di avere figli, no perché allora non va bene. Oppure se hai una certa età, ma lei ha i genitori, sono anziani, li dovrà accudire, ragazzi, ma cosa volete da noi donne? Io devo lavorare per te, preoccupati che io abbia le capacità che tu richiedi, le conoscenze che tu richiedi, lascia perdere se ho i genitori, se ho dei figli, o so, quelli che so, quella che è la mia vita privata, e se sono giovane, se sono vecchia. Vi ripeto, io l'ho provato sulla mia pelle, sia quando ero giovane che cercavo lavoro e mi sentivo fare questi discorsi, sia dopo, quando a un certo punto, intorno ai 55, così 54, sono rimasta senza lavoro. Quindi capisco benissimo come ci si senta, con che animo si torni a casa, e tutto quello che maciniamo dentro. Quindi, siccome io mi ricordo che quando appunto cercavo lavoro ed ero vecchia, parlando con delle persone, mi sentivo ripetere la frase che penso che tutte voi vi sarete sentite ripetere tante volte, ma non ti preoccupare, vedrai che tutto si sistema, andrà tutto bene, bene, si chiude una porta, si apre il portone, bene, si apre un portone, ma io questo portone aperto non lo vedevo e a volte dicevo a queste persone, bene, ma me lo apri tu il portone? No, ma si fa per dire, ma vedrai, ma vedrai, bene. Allora, siccome adesso io posso dire ad altri, vedrai che si chiude una porta e si apre il portone, ma soprattutto io il portone lo posso aprire, posso, sono nella condizione di aprire questo benedetto portone, cosa faccio? Lo propongo, dico sempre, ok, c'è questa possibilità. E allora, pensando che io mi sto rivolgendo a delle donne che hanno perso il lavoro, che magari hanno dei figli, una famiglia, magari anche il marito se non lo ha perso, o aver avuto dei problemi, aver lavorato meno. Insomma, ci sono famiglie che hanno dei problemi ad arrivare a fine mese. Oppure ci sono delle persone giovani che vorrebbero smettere di pesare sulle spalle dei genitori, che magari hanno un fidanzato, vorrebbero comunque andare a vivere da sole col fidanzato, col compagno, o sposarsi, magari avere anche dei figli e non possono farlo. e allora dico, ok, dai, io ti do una possibilità. Lavora con me, lavora per Avon, lavora con me, nel mio team. E come dice giustamente una mia collega, una ragazza giovane e molto intelligente, io non lavoro per Avon, io lavoro per me, con Avon. Ed è una cosa molto giusta. Quindi io ti offro una possibilità. Non sei capace, non sono capace a vendere, non ti preoccupare, ti insegno io, io sono molto brava. Sono una delle prime della mia zona. A fine 2020 io mi sono classificata a seconda della mia zona e tra le prime del centro, del nord Italia. Quindi magari qualche esperienza, qualcosa da dare, anzi, ho deciso di diventare Avon leader proprio perché ho detto, ma tutta questa mia esperienza deve rimanere solo qui con me. No, io la voglio trasmettere ad altri. Ti do la possibilità quindi di lavorare e non solo se abiti a Genova, in tutta Italia, perché io posso nominare grazie alle nomine digitali in tutta Italia, quindi il problema non si pone. Ti do la possibilità di avere un lavoro che non solo ti fa guadagnare con le vendite, ma anche dopo facendo l'Avon leader come la faccio io. Ma non conosco nessuno. Beh, guarda, quando io ho iniziato a fare la venditrice Avon, ritornavo da esperienze di lavoro e soggiorno di lavoro a Milano per anni, quindi ormai avevo perso tutte le... la rete era nazionale qui a Genova. Mi erano rimaste due o tre amiche, le storiche, quelle del liceo o dell'università, ma poche. Ero anche divorziata, quindi anche le amicizie poi si dividono, no? Anch'io ho detto ma non conosco nessuno, però non avevo soldi. Avevo bisogno di lavorare e ho detto e provo. Ad esempio, sempre all'epoca in cui ero rimasta senza lavoro, io sapevo già che tra me e la contabilità non c'era un bel rapporto, ma non perché io non mi sappia fare i conti, me li so fare molto bene e sono anche molto brava in matematica, però la contabilità ha proprio bisogno di determinate cose, di molta precisione, di certi schemi. Però all'epoca la provincia aveva proposto dei corsi proprio di contabilità, io vedevo leggendo gli annunci sul giornale, perché al tempo gli annunci sul giornale c'erano, che più o meno i contabili venivano richiesti. Allora, la provincia fa i corsi, i contabili vanno richiesti, sono richiesti, facciamo questo corso. E ne ho fatti due, uno assolutamente teorico e uno pratico perché insegnava a utilizzare, usare un software gestionale molto usato. E lì proprio mi sono resa conto che tra me e la contabilità c'è un abisso, mi si erge un muro davanti che la muraglia cinese levati proprio. Ah, perché io non riesco a digerire la partita doppia? Perché sono molto semplice, molto... Se io ho 10 euro e me li metto in tasca, ce li ho. Se io i 10 euro li spendo, non ce li ho più. Invece con la partita doppia, li ho e non li ho, li spendo, ma ce li ho. Insomma, per me è... Ma comunque l'ho fatto, l'ho fatto intanto perché era gratis, perché se mi avessero detto spendi 500 euro per un corso, non l'avrei fatto. E poi comunque quello che ho imparato in qualche modo mi è servito perché poi ho lavorato in uffici piccolini, quindi non in aziende dove c'era proprio bisogno di una contabilità e di una partita doppia, però ho saputo fare cose che magari prima non avrei saputo fare. Questo per dire cosa? Entrare in Avon è gratis. Non credi di essere in grado di essere capace, non te la senti. Prova! È gratis. È gratis entrare, è gratis uscire. Non sei obbligata nella maniera più assoluta ad acquistare nulla, perché non sei obbligata come succede in altre realtà ad acquistare il borsone con tutti i prodotti per dimostrare no, anzi io ti faccio un regalo. Se entri in Avon io ti faccio un regalo, ti regalo un prodotto. Quindi ma perché non provare? Io ti insegno a vendere, l'azienda ti insegna a vendere, Avon fa anche tanta formazione sui prodotti, anche la mia capogruppo fa formazione, quindi sulla formazione sei tranquilla. Non conosci nessuno? Beh, comincia con le persone più vicine, le amiche, qualche parente. Pensa solo a una cosa, quello che spendi, non dico tutti i giorni, ma almeno in settimana, una volta ogni 15 giorni, per l'igiene personale. E parlo di bagnoschiuma, di shampoo, sapone per l'igiene intima, deodoranti, sapone per le mani, poi adesso usiamo tanto igienizzante, e crema per le mani. Se poi hai degli uomini in casa, magari si fanno la barba, quindi schiuma da barba, dopo barba, beh, pensa a quello che spendi per queste cose, tu le puoi acquistare come venditrice Avon, o come cliente privilegiata, e le compri con lo sconto. Poi magari te le compra, che ne so, tua mamma, se hai la fortuna di averla ancora, una sorella, una cognata, la suocera, e vendi qualcosa, cominci a vendere. Poi a poco a poco ti fai il tuo giro di clientela, ma queste sono cose che poi ti insegno io. Ma prova, perché dire di no a priori? Mettiti in gioco, no? Eh, dimostra, magari c'è qualcuno a casa che ti dice, ma no, ma lascia perdere, e tu dimostragli che invece sei capace. Ma la cosa che veramente mi fa andare fuori di testa, come si dice a nove, mi vengono gli sciupum de futta, come diceva Govi, e quando qualcuno mi risponde ah no, io voglio un lavoro serio. Allora lì mi parte l'embolo, perché io lavoro in Avon da quasi dieci anni. Sentirmi dire che Avon non è un lavoro serio mi manda letteralmente in bestia, perché mi stai offendendo. Cioè tu stai dicendo a me che da dieci anni non faccio un lavoro serio. Eh, se permetti mi scavola, mi scoccia, mi dà fastidio, mi sento offesa. Per cui chiudiamo, chiudiamo perché non voglio trascendere, però se davvero sei in una situazione che non hai soldi, comunque la tua famiglia risente del fatto che tu non non lavori più, piuttosto non hai mai lavorato, vuoi essere indipendente, ma prova. Parte che Avon è aperta anche agli uomini, io ho tanti colleghi maschi che vendono e vendono bene. Quindi questo è un discorso che è valido per tutti. Prova, mettiti in gioco, fai un tentativo, provi un mese, due mesi, tre mesi, datti un po' di tempo, permetti anche a me di aiutarti, di insegnarti, di raccontarti un po' come si svolge questo lavoro, ma prova. Poi se proprio proprio fra due o tre mesi o diventi milionaria perché vinci il superenalotto e te lo auguro di cuore, trovi un altro lavoro, comunque vedi che proprio proprio no, basta te ne vai, nessuno ti chiede niente. Considera invece che avrai l'opportunità subito, come diventi presentatrice, di aprirti un negozio online e questo ti darà la possibilità di vendere molto di più, perché puoi vendere non solo a tutti, non so, agli amici, parenti che magari hai sparsi per tutta Italia, ma anche a persone della stessa città. Ad esempio io penso Genova, no? I due estremi, nervi e voltri, ci sono quasi 40 km. A volte una da nervi a oltre, soprattutto in questo periodo di limitazioni, può avere dei problemi. Allora hai la cliente che ti va sul tuo negozio online, acquista, si fa recapitare a casa la merce, paga, tu hai il tuo guadagno e non ti devi neanche muovere di casa. Poi siccome qualcuno ti ha detto che sei vecchia, Avon ha delle presentatrici che hanno anche 70, 72, 73 anni, perché non avrai dei bambini e quindi non verrai a lavorare. Bene, Avon ti dà la possibilità di lavorare da casa, perché Avon è digitale al massimo, perché non hai solo il catalogo cartaceo, ma hai anche il catalogo da girare online tramite Whatsapp, quindi le tue clienti tu le raggiungi dove vuoi, l'ordine e le clienti te lo mandano su Whatsapp, per cui tu puoi decidere di lavorare, quando vuoi, allora che vuoi, come vuoi e dove vuoi. Vuoi stare a casa perché hai dei bambini e ti fa piacere seguirli, oppure come meglio i gatti, mi fa piacere stare a casa e seguirmi i gatti, oppure quando la giornata è un po' più bella io magari me ne vado sulla spiaggia, prendo il mio tablet e vi faccio le mie cose, un pubblico, mando i Whatsapp alle clienti, tante cose. Se hai dei bambini te ne stai in loro compagnia, che può essere a casa, al parco, alla spiaggia, in piscina, quando potranno andarci e lavori. Quindi quello che per altri è una penalità, ah no perché se hai dei bambini non ti assumo, ecco, Avon te la concede, anzi ti dà proprio la possibilità di lavorare come vuoi, quando vuoi e poi soprattutto. Pensa una cosa, tu sarai la capa di te stessa, ma fosse anche un lavoro che tu reputi marginale, part-time, che ne so, magari tu mezza giornata la passi in un ufficio, l'altra mezza giornata lavori per Avon. Ma vuoi mettere, uscire dall'ufficio con un capo che magari ti ha stessato l'anima, o da un negozio, eh? Io dico, ho detto ufficio, ma può essere una fabbrica, un negozio, una qualsiasi realtà lavorativa, dove un capo ti ha assillato, angosciato. Tu esci e fai quello che vuoi e decidi tu quando lavorare, come lavorare, dove lavorare. Ma che bello, ma perché non vuoi provare? Ti ripeto, non costa niente, non costa assolutamente niente. Quindi, prova. Io sono qui, sono disposta a darti tutto l'aiuto possibile, anche perché se tu vendi, sto bene anch'io, no? È come avere, non so, un negozio. Se un negoziante ha dei commessi che vendono bene, che trattano bene la clientela e quindi le vendite aumentano, ci sta bene lui, poi magari dà delle gratificazioni, no? E ha questi suoi commessi. Ecco, la stessa cosa succede in Avon. Uno vende, se vende bene, io sto bene e faccio anche dei regalini alle mie collaboratrici. Quindi, ti insegno, non ti costa niente, ti faccio anche un regalo. Eh vabbè, allora dillo. Se ti vuoi solo lamentare, se vuoi solo fare la lagna, fammi un piacere. Io rispetto la tua scelta, ma non venire a dire a me, oh me mi meschinetta, non ho lavoro, non ho soldi. Io ti do una possibilità di lavoro concreta. Più di quanto tante persone abbiano fatto con me. Io non ti dico se apre un portone, io il portone te lo apro. Se vuoi entri, se non vuoi stai fuori, ma poi non ti lamentare. Ok? Ciao!